Marta, allora complimenti, perché insomma è notizia di qualche ora fa, la convocazione a Tokyo 2020. Ma sicuramente è una bellissima emozione, insomma dopo 13 anni che rincorro questo sogno posso dire ufficialmente che non è mai troppo tardi, quindi sono oltre che felice e ringrazio anche un po' per la fiducia che mi è stata data e sarò sicuramente lì per mettere a disposizione le mie caratteristiche come mi è stato richiesto e per essere di supporto ad una grande squadra. Quindi sono veramente felice, probabilmente ancora non mi rendo conto perché poi adesso sono al giro, quindi comunque ci sono tante altre emozioni che stiamo vivendo, però credo che sia veramente un qualcosa di eccezionale. Che gara farà l'Italia? Sicuramente è un percorso molto diverso dagli uomini ed è per questo che il CT ha deciso di non concentrarsi soltanto su una squadra che potesse essere una squadra da scalatrici. E quindi ha preferito portare anche una punta più veloce come poi ha sempre fatto in tutte le altre competizioni e proprio perché dobbiamo tener conto anche di diciamo di un tipo di gara che si possa presentare aperto a qualsiasi occasione. Quindi saremo pronti in caso di magari arrivo in solitaria, quindi in caso di arrivo in gruppetto, credo che poi ce la giocheremo abbastanza in forma aperta. Sicuramente siamo di supporto a un'Elisa che poi sta dimostrando, ha sempre dimostrato di essere in questo momento la più forte in Italia e anche in campo internazionale. E ci teniamo in considerazione anche il fatto che possa arrivare un gruppetto e quindi io possa mettere a disposizione poi le mie caratteristiche in quel caso. Campionessa d'Italia, campionessa d'Europa e anche campionessa del mondo del 2007. Fai tutti gli scongiuri che vuoi, però mancherebbe solo l'Olimpiade. Ti do il tempo di fare gli scongiuri che vuoi. No, diciamo che intanto per me, credetemi che partecipare è stato qualcosa di eccezionale perché l'ho rincorso per 13 anni e ogni quadrienne c'era un problema diverso. Quindi essere qui ad oggi a 34 anni credo che sia una buona occasione intanto e sicuramente poi sarà anche una buona occasione per portare a casa una bellissima prestazione.